Sono Rita, la nonna di Diego, e vi dico a voi altri giovani che l'Italia sarà sempre la più bella nazione d'Europa, va bene? Bisogna però lottare per me. Bisogna lottare perché siete giovani, io non posso più fare niente. Beh, proprio niente no. Eh, va bene, sono 90 anni, uno. Vuoi darci la tua esperienza? Eh, le esperienze ce n'ho tante da dire, ma adesso è troppo lunga dirle tutte. 90 anni però, hai una bella memoria storica. Ma fino adesso a memoria mi dimentico qualcosa, ma succedeva anche da giovane. Ok, allora un caro saluto a tutti. Un caro saluto a tutti gli italiani miei.